Al termine della gara tra il Girifalco e il Bivongi, vinto dal Girifalco 3 a 0 con reti di Conidi, Domenico, Quirino e Ture su rigore, siamo con il presidente del Bivongi, Clemeno, a cui chiediamo un buon primo tempo, un secondo tempo meno ordinato. Sì, un buon primo tempo, nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni, abbiamo preso due pali. Nel secondo tempo c'è da dire che abbiamo abbassato la guardia, però il campionato è questo. Vi è mancato molto l'assenza di Panaia in avanti, in effetti siete stati un po' evanescenti e poco cinici. Sì, l'assenza di Panaia oggi si è sentita molto, si è sentita anche l'assenza di un altro nostro centrocampista, Bangura Mustafà, che a centrocampo ogni partita dà il massimo. Ormai io dico che siamo a due partite dalla fine, ce le giochiamo le altre due e in bocca al lupo. Sempre dopo partita Girifalco-Bivongi, vinta dal Girifalco 3 a 0, siamo in compagnia del giocatore Vincenzo Ferraina e del capitano di giornata Alessane Tourè. Al Vincenzo Ferraina chiediamo una partita sofferta nel primo tempo, sbloccata nel secondo e poi avete stravinto. Sì, intanto buonasera. Una partita nel primo tempo anche molto divertente, da azioni da una parte e dall'altra. Cioè siamo a gioco a sabbia e saperta, non avevamo nulla da perdere, sia il Bivongi che noi eravamo comunque tra in una posizione di classifica tranquilla. Nel secondo tempo poi abbiamo un pochettino carburato un po' di più, è arrivato l'Eurogoal di Domenico Conidi che poi ci ha messo la partita tutta in discesa e dopo alla fine ha chiuso il nostro capitano oggi, Alessane, con il rigore del 3 a 0. Questo ci rifà un pochettino della sconfitta anche dell'andata perché comunque li abbiamo perso 7 a 1, da ricordarlo. Il Bivongi è una squadra forte, una squadra che in casa è molto difficile da affrontare e anche fuori casa ci ha messo anche oggi in difficoltà. Ora siamo salvi, onoriamo il campionato, alla fine mancano poche partite, la prossima è a Badolato, aspettiamo la prossima partita. Alessane, dimmi, come mai capitano, la fascia di capitano oggi e che impressione ha avuto, che sensazione ha avuto indossare la fascia di capitano? Io vi dico che ho meritato per oggi per essere il capitano della squadra. Poi pure abbiamo giocato benissimo, vi ringrazio tutti i tifosi, pure il mister, vi ringrazio tutti. Questo vi dico. Hai avuto questa fascia, ma di chi è il merito di questa fascia? Insomma, diciamo sempre come facciamo noi, quando uno è preciso che vieni sempre all'allenamento, diciamo che vieni sempre la partita, non manca. Per questo oggi il mister mi ha dato questa fascia, perché io non manco sempre. E il rigore? Il rigore è stato bellissimo, ho segnato. Il mister ha voluto premiare Alessane, un ragazzo che è venuto e ci ha dato una mano quest'anno, sempre puntuale, sempre preciso, un ragazzo che ha sempre rispettato tutti quanti, avversari, giocatori, tutti quanti. E oggi appunto meritava sia la fascia di capitano che il gol e alla fine sono arrivati tutti e due. Bel segno, visto ciò che sta succedendo nei vari campi anche della Serie A. Sì, purtroppo si parla tanto di raccismo, omofobia, purtroppo sono delle paure radicate che fanno male, fanno male a tutti quanti. Se vengono qua un problema lo hanno, purtroppo noi dobbiamo accoglierli, gli dobbiamo dare tutto il possibile per poter vivere una vita dignitosa, perché hanno avuto la sfortuna di essere nati in un posto sbagliato al momento. E quindi ora cercano fortuna altrove ed è giusto accoglierli perché la terra è di tutti, non è di nessuno. Grazie